Prendi una carta, quella che vuoi. Ok, mostrala al tuo amico e poi mostrala in camera, io mi giro. Fatto? Ok, allora, resto di quadro, ti piace? Ok, la sigaretta ce l'hai sempre portata di mano? Perda attentamente quello che succede. Non solo la sigaretta vuca la tua carta, la cosa più incredibile è che esce, mi apre la mano, lasciandola completamente intatta. Questa è la tua sigaretta, controlla se è qualcosa che non va, qualcosa di strano, è ovviamente il tuo asso di quadrice per la te. Prego, controlla. 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 Questa segretta. Questa ossia.